Buongiorno a tutti. Ammetto che parlare a una telecamera è una cosa molto diversa che parlare a delle persone e quindi mi dispiace moltissimo non essere stamattina lì con voi, come avevo promesso a Don Dante. Innanzitutto le scuse ufficiali, ma che non vuol dire che sono scuse fasulle. Ho addirittura fatto, convinto Don Dante a cambiare la data di questo vostro incontro, promettendo di essere lì con voi. Invece in questo momento, anche se vi parlo in registrazione, sono gli Emirati Arabi a discutere di sicurezza regionale, quindi è un impegno istituzionale che non mi permette di essere con voi lì stamani. Ultimo miglio, avrei dovuto parlare di questo in questi pochi minuti. Fatemi dire molto sinceramente un solo concetto. La prima volta che ho sentito parlare di ultimo miglio, correva l'anno di grazia 1997 e parlavamo di internet, di telefonia e di telecomunicazioni. Perché io penso che genericamente e generalmente ultimo miglio sia un concetto che tutti noi associamo a quel pezzo che manca, al tratto che manca per connettere le grandi reti e l'utente finale. Ecco, parliamo in genere di tecnologie, di cose importanti ma fredde. L'idea che l'ultimo miglio sia un concetto che viene invece associato alle persone, cioè andare laddove non arriva nessuno, per portare un servizio alle persone, ai dimenticati di un paese magari in grandi difficoltà, o ai dimenticati di un paese che pur sta crescendo e sta diventando anche più ricco e più florido, ma dove esistono ancora grandi inuguaglianze, è un concetto per me di straordinaria novità e di grande interesse. Ecco, in questo ultimo miglio voglio dire che c'è il tocco, il taglio importante del QAM, dei medici con l'Africa, e allora fatemi concludere dicendo soltanto l'ultima cosa. In questi pochi mesi il Ministero degli Esteri sta provando a lavorare su tanti piani. La legge di riforma della 49, quindi una legge di riforma della cooperazione che cambi il vestito, le norme di un settore che è fermo a 27 anni fa, e onestamente nessuno di noi porta gli stessi vestiti né per taglia né per moda che portava 27 anni fa, è una battaglia sulle risorse, quindi accrescere le risorse che il sistema pubblico impiega nella cooperazione, è una battaglia sui modi con i quali concertare e discutere insieme alle ONG, alle università, ai grandi attori sociali, cosa vuol dire cooperazione oggi, è una battaglia soprattutto per far diventare la cooperazione allo sviluppo non soltanto l'impegno di chi già ci crede, ma una battaglia condivisa per l'intero paese, cioè per uscire dal dialogo che riguarda altrimenti soltanto gli addetti ai lavori e quelli che già sanno che cooperare allo sviluppo del pianeta non vuol dire semplicemente spendere delle risorse, vuol dire fare un investimento preventivo in pace, in sicurezza, in dignità umana, vuol dire dunque avere un'idea di se stessi nel mondo, questo è ciò che noi cerchiamo di fare oggi dal Ministero degli Esteri. Ecco, ricordare che la cooperazione, appunto, in ultima analisi, ha a che fare con le persone, sia a quelle che magari arrivano disperate sulle nostre coste o arrivano disperate nel nostro paese, ma anche quelle a cui nessuno arriva, appunto quelle dell'ultimo miglio. Grazie, mi dispiace moltissimo di non essere lì con voi, ma un abbraccio ideale a Don Dante, a Don Luigi, a tutti i volontari e i medici con l'Africa che sono lì o che sono a servire nell'ultimo miglio e alle famiglie che oggi vi accompagnano in questa bella iniziativa. Buona giornata.